Il turco a Vienna, l'assedio ottomano del 1683, di Franco Cardini Buonasera, ben ritrovati, come ricorderete ci stiamo avvicinando, è solo un modo di dire, insieme con l'esercito turco, verso l'assedio di Vienna. Siamo ormai nel Seicento inoltrato e il nostro problema è spiegare perché l'assedio di Vienna del 1683 è in fondo un episodio tanto più sconvolgente perché era stato preceduto da un lungo periodo di pace o di non belligeranza. Abbiamo detto nelle puntate precedenti che in realtà il turco non poteva salire l'Europa e non l'avrebbe mai comunque assalita nel suo complesso. Il turco cerca di dividere i suoi possibili avversari, non di accolparli, quindi di colpirli sempre uno per uno e nello stesso tempo di avvicinarsi con gli strumenti dell'amicizia diplomatica agli avversari della potenza che colpisce. Quindi quando si va in guerra contro Venezia evidentemente si mandano ambasciatori all'imperatore e magari viceversa. Quando si rientra in guerra mediterranea contro la Spagna per via di mare non solo si mandano segnali positivi alla Francia ma si cerca anche naturalmente di rinsaldare rapporti con gli emirati corsari di cui soltano ha un po' paura. Ha paura perché conosce la loro struttura, la loro natura e sa fino a che punto siano scarsamente prevedibili e scarsamente gestibili in termini politici. L'Europa è in quel momento, seconda metà del Seicento, ormai costretta a rispondere alle iniziative sempre più aggressive, sempre più forti del Re Sole. Il Re Sole non ha nessuna intenzione di perdere tempo indicendo crociate contro i turchi. Tanto più che i turchi in quel momento se ne stanno abbastanza tranquilli. Nello stesso tempo il problema è che anche alla corte del Toccapè, a Istanbul, le cose non vanno bene. Le cose non vanno bene dai tempi della morte di Soleimano. C'era una situazione proprio insita all'interno della corte, e voi dovete pensare alla corte come a una realtà ricca, sontuosa, misteriosa, corrotta, Metteteci tutti gli aggettivi che ordinariamente si mettono quando si vuole descrivere una corte, ma in concreto tenete presente che vi sono delle forze nella corte del sultano che in qualche modo congelano, ingessano le possibili attività e potenzialità politiche del sovrano. La corte è un complesso insieme di famiglia, luogo di residenza signorile, luogo di divertimento e magari di corruzione, e luogo dove si esercita il governo, dove si accettano e si smistano ordini, quindi la corte è casa privata del sovrano, ma è anche ufficio, ma è anche studio, ma è anche luogo di assemblee di governo, ma è anche luogo di piacere e di divertimento, ma è anche tesoro, cassa pubblica, luogo dove si ammassano la maggior parte delle ricchezze dell'impero. E la corte è naturalmente popolata di familiari, di funzionari, di servi, di amici. Ben presto sono emerse da questa realtà magmatica alcune presenze importanti e inaggirabili nella politica sultaniale, che è sempre condizionata da queste forze, si possono enumerare, sulle dita ad una sola mano. I giannizzeri, gli eunuchi, la validè. Poi ci sono gruppi secondari di scribi, di funzionari di medio livello, eccetera. Ma i tre gruppi di potere veri sono appunto i giannizzeri, gli eunuchi e la validè. I giannizzeri, gli enigeri, in turco vuol dire la giovane guardia, sono un'istituzione trequattrocentesca, ideata dai sultani ottomani su uno schema, che ricorda abbastanza da vicino quello dei mamelucchi egiziani, e che viene importato appunto in Turchia. I giannizzeri venivano in generale razziati da piccoli, da villaggi cristiani, i genitori venivano uccisi, i bambini venivano selezionati, e quelli che risultavano i migliori venivano allevati in scuole, convitto, prigioni speciali. Naturalmente dovevano per normativa tassativa essere piccoli cristiani, però naturalmente si convertivano, si facevano convertire. Questa è la realtà iniziale, perché con il tempo, nonostante sempre nuovi giannizzeri, giovani giannizzeri, si accorpassero a quelli vecchi, le grandi famiglie di giannizzeri, siccome gli si era permesso di sposarsi, le famiglie di giannizzeri avevano conservato i privilegi della loro casta e si erano trasformati in una sorta di casta di potere. Sono una guardia scelta con funzioni di corpo di guardia, praticamente, del sultano, ed hanno un grande potere. Le loro rivolte, che qualche volta finiscono anche con l'uccisione del sovrano, sono spesso uno strumento per gestire la politica sultaniana. Accanto ai giannizzeri c'è la categoria degli unuchi, spesso anch'essi cristiani, e virati, di solito da piccoli, posti alla guardia del harem, cioè harem in arabo vuol dire luogo recintato, luogo il cui ingresso è proibito agli estranei, ed è appunto il successore del gineceo dei greci, quindi gli appartamenti delle mogli o delle concubine del sultano stesso. Gli unuchi hanno un grande potere che esercitano in generale attraverso le mogli del sultano e soprattutto attraverso la principale moglie, la favorita. Quindi evidentemente l'elemento di gossip, se noi se vogliamo esprimersi in questo termine, alla corte di Istanbul è molto forte e condiziona anche le scelte di alcuni sultani. E poi, infine, c'è la Validee. La Validee è una figura straordinaria, ci sono state anche molte Validee italiane, la leggendaria Marsilia, la bella Marsilia, che si diceva essere stata una giovane maremmana strappata alle terre natie da una scorreria dell'inizio del Cinquecento, che poi diventa Validee, oppure una veneziana famosa, la nobildonna Baffo. Sono figure che appartengono alla vita più intima del sultano. Validee è appunto la madre del sultano in carica. hanno una forte presa e forti prerogative di governo, soprattutto nei confronti dell'arem, quindi è la Validee che in fondo finisce per scegliere le donne che sono più vicine al sultano, anche se non sempre sceglie la principale, sposa, la favorita. e naturalmente la Validee preme sul figlio sia direttamente sia attraverso l'arem. Naturalmente ci sarebbero altre componenti della reggia, della corte da prendere in considerazione. Il gruppo dei vizir, dei ministri, per esempio, da cui spicca il primo ministro, il gran vizir, anche lì ha al solito forte prevalenza di parvenu, di gente che non è di grande famiglia musulmana. Le grandi aristocrazie musulmane si tengono alla larga dalla corte, la frequentano anche il meno possibile, mentre invece queste funzioni di alto livello vengono assunte spessissimo da persone che originariamente non erano cristiane, non erano musulmane, quindi da rinnegati. C'è una grande tradizione, come lo abbiamo già detto, di gran vizir che vengono dalla penisola balcanica o dalla penisola italica, soprattutto dal sud dell'Italia, dalla Puglia, dalla Calabria, dalla Sicilia. Direi che la Calabria in questo senso è la più prolifica di gran vizir. È famoso per esempio il gran vizir Mechmet Socolli, serbo di nascita, che fino al 1574 gestisce l'impero dopo la scomparsa di Solimano in Magnifico. Quindi un incarico, una funzione, una mansione delicatissimi che egli riesce a gestire con grande con grande abilità. Dopo di lui però si ha una serie di vizir poco incisivi o molto intriganti o poco abili o poco fortunati che vengono l'uno dopo l'altro assunti in carica e che l'uno dopo l'altro vengono deposti. E l'essere deposti non era particolarmente simpatico alla corte del sultano, non comportava un trattamento di fine rapporto, non comportava una pensione ma comportava di solito il venire uccisi. Sì, se questo vi può consolare per strangolamento attraverso una corda o addirittura un filo sottile di seta, qualche volta perfino una corda d'arco, sia di strumento d'arco sia proprio di arco nel senso dell'arma. Non dovete pensare a una morte particolarmente pietosa perché la corda sottilissima finiva con recidere la carotide e molti strangolati morivano in realtà tra forti sofferenze soffocati dal loro sangue o dissanguati. È l'aspetto il dark side per così dire della corte del sultano di Istanbul su cui come sapete si raccontano storie sontuose ed atroci. Chiunque abbia visitato il toccapè ha trovato qualche guida che le ne ha raccontate alcune. Storie che in parte non sono vere o non sono comunque esattamente riportate ma in parte sono anche vere e hanno una loro al di là della ferocia e ferata hanno anche una loro logica logica che ha il punto suo di massimo di massima estrinsecazione in quanto appunto qualcosa di razionale ma anche l'aspetto più aggacciante nella tradizione secondo cui il sultano in carica in generale faceva a sterminare tutti i fratelli. Ci sono casi come nel 1574 dopo il visirato oculato di Mehmet Sokolli Murad III sale al trono e fa strangolare cinque fratelli. Il suo successore nel 1595 Mehmet III ne fa strangolare addirittura diciotto diciotto avuti da madri diverse naturalmente raccontando queste barbare tradizioni fratricide si potrebbe andare avanti a lungo ma naturalmente questo non è il nostro scopo. Ed eccoci quindi giunti al momento in cui bisogna tirare le fila di questa complessa forse anche un po' troppo ampia presentazione della diplomazia e della problematica sia europea che turca ottomana che mediterranea e lo facciamo presentando qualche piccola brevemente qualche breve figura di sultano e di vizir che sono quelli che naturalmente hanno per così dire svolto il ruolo di protagonisti nella nostra storia. Forse si dovrebbe cominciare da Muradde IV personaggio se non altro pittoresco sale al trono nel 1623 era un ragazzino viziato molto molto crudele proprio si può dire un vero e proprio piccolo assassino che si divertiva a tirar colpi di balestra contro certi malcapitati che gli cadevano sotto sottotiro è circondato da una fama molto oscura non solo di malvagità ma anche di vera e propria follia è Murad detto a Deli Deli è un termine che vuol dire Murad il pazzo e naturalmente questa follia genera una risposta altrettanto dura e feroce Murad riesce addirittura a far ribellare contro di sé i giannizzeri e i giannizzeri alla fine lo uccidono a loro volta con la solita cordicella di seta la morte di Murad apre un periodo che in un certo senso è di serenità e anche di prosperità per l'impero l'impero è governato bene governato con saggezza ecco la follia la follia dei sultani un po' come le follia degli imperatori romani non deve far pensare immediatamente a un mal governo intanto bisognerebbe fare molta tara a questi racconti oscuri che riguardano il Toccapè oppure lo haram lo haram oppure i giannizzeri e via discorrendo c'è molta letteratura anche se certi fatti crudeli senza dubbio accaddero ma a volte sapete i cronisti sono dei cripto nemici dei sultani o perlomeno dei sultani passati magari sono al servizio del sultano presente volta per volta ma qualche volta amano un pochino come direbbero i francesi noircir le tableau annerire il quadro generale sta di fatto che mentre i sultani si danno alle loro follia alle loro stravaganze che vengono loro consentite ma nella gabbia dorata del serraglio i visir lavorano e lavorano sodo e lavorano bene e si distingue in questo lavoro positivo una famiglia albanese famiglia dal nome evocativo e francamente divertente se si vuole la famiglia Keprelu la famiglia Keprelu ha un nome greco e voi sapete che in greco kopros significa escremento la famiglia la famiglia Keprelu non doveva quindi essere una famiglia che venisse da illustri natali tuttavia i membri della famiglia Keprelu si rivelano dei visir veramente dotati di grande moderazione e di grande lungimiranza questo patrimonio di saggezza viene messo in forse viene messo a repentaglio e viene in un certo senso dissipato da una scelta infelice del sultano in carica in quel momento che è Mehmet IV e forse dell'ultimo membro della famiglia Keprelu che sceglie di attribuire i suoi poteri decisamente alla persona sbagliata rimandiamo a domani alle 8 della sera sul radio 2 la scoperta di questo errore che sarà fatale allo stesso impero sul canale nel suo complesso